Ancora controlli delle forze dell'ordine per prevenire l'abusivismo commerciale. In totale sono state elevate 11 sanzioni per mancanza di licenza, omessa installazione di misuratore fiscale, occupazione abusiva del suolo pubblico e mancata revisione dei mezzi, provvedimento a cui si sono aggiunti anche alcuni sequestri di merce di provenienza dubbia. I controlli sono stati eseguiti congiuntamente da Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Municipale tra Caltanissette e Niscemi, in modo da avere una panoramica su chi esercita regolarmente il commercio ambulante. Nel dettaglio quattro ambulanti sono stati sanzionati per mancanza di licenza, due per assenza di registri di casse e quindi assenza di misuratore fiscale, altri due per aver occupato abusivamente il suolo pubblico e altri tre per la mancata revisione dei mezzi. A Caltanissette è stata inoltre sequestrata merce di dubbia provenienza. I controlli sono stati disposti dalla prefettura durante l'ultimo comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica dell'8 settembre scorso. L'obiettivo è quello di tutelare la regolare vendita ambulante, visto che ci sono anche tanti commercianti che rispettano le regole. Già nelle scorse settimane erano stati eseguiti altri controlli che avevano portato al sequestro di 60 cassette di frutta e verdura.